fargli sentire la tua mancanza, cerchiamo di capire qual è una strategia micidiale per fargli sentire la tua mancanza Cara Malgascona, qual è una strategia micidiale per fargli sentire la tua mancanza e ovviamente come ho detto tante volte ma ripetita Juvent, noi soltanto se riusciamo, salutiamo anche la nostra Piera soltanto se riusciamo a far percepire la mancanza di una persona, questa persona intrinsecamente penserà di essere coinvolta intrinsecamente penserà di essere innamorata e questo indipendentemente dal fatto che lo sia è un bias diciamo psicologico fondamentalmente che funziona in questo modo salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple e poi salutiamo anche Carola e salutiamo anche Lucia e tutte le persone che si collegano e si collegheranno ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e se volete fare una piccola donazione al canale ovviamente è ben accetta perché dà la possibilità diciamo di come possiamo dire dà la possibilità di dare un sostegno al canale salutiamo anche Sissi quindi esorto tutti a fare una piccola donazione al canale che messa assieme possono dare un sostegno e possono aiutare fondamentalmente allora cerchiamo invece di capire un attimino quali sono le cose intanto ovviamente parliamo di seduzione ovviamente parliamo di seduzione la seduzione è un fatto è un fatto diciamo che cos'è la seduzione poi alla fine perché parliamo sempre di seduzione ma seduzione dal latino seduzio è praticamente la capacità di ci sono due diciamo due possibili traduzioni dal latino seduzio seducere una diciamo più benevola quindi per far sentire la tua mancanza a una persona devi produrre comunque seduzione una traduzione di seduzione più benevole è quella di portare a sé sedurre, condurre a sé però c'è un'altra c'è un'altra diciamo che poi tutto sommato possono essere simili un'altra traduzione deviare, deviare, traviare cioè deviare la persona sta andando verso una direzione la seduci la gli fai prendere un'altra gli fai prendere un'altra strada e ovviamente questo è diciamo questo è un qualcosa di interessante è una qualcosa di interessante quindi la seduzione però non è mai quindi un qualcosa è un qualcosa di attivo ma ringraziamo la nostra Patrizia Perotti grazie Patrizia ma la seduzione è fondamentalmente qualcosa cioè noi siamo automaticamente sedotti quando sentiamo una sorta di vuoto una sorta di vuoto interiore salutiamo anche Betty Kotic una sorta di vuoto interiore che ci spinge verso una situazione che ci spinge verso una persona dobbiamo sentire questo vuoto fondamentalmente no? perché questo è il vuoto che poi è quello che nella micro psicanalisi viene chiamata come possiamo dirla la diciamo la forza del vuoto interiore il ritorno al vuoto noi siamo spinti verso chi ci fa sentire la mancanza quando abbiamo una mancanza di qualcosa noi ci portiamo verso qualcosa nella storia ci sono stati molti uomini molte donne che sono stati dei grandi seduttori delle grandi seduttrici pensate ad esempio a Cleopatra diciamo no? l'ultima regina dell'antico Egitto è stata una grandissima seduttrice ecco e questo ci fa anche capire come talvolta la bellezza non conti nella seduzione questo per dirlo a molte malgascione molte carampane che diventano delle rifattone a parte che diventare rifattone proprio per conquistare qualcuno certo se uno ha il naso che è una proboscite magari se ne farsi fa tagliare un pezzo diciamo di proboscite può essere utile ma talvolta non è neanche così comunque deve essere perché spesso molte donne ad esempio diciamoci la verità si fanno rifare le tette per gli uomini si fanno rifare i labbroni diciamo i canotti per gli uomini cioè per sedurre per essere seduttive ma in realtà questo non funziona diciamo Cleopatra non era particolarmente bella fondamentalmente almeno dai testi dai disegni che aveva un nasone ma anche un altro seduttore lo scrittore avventuriero veneziano Giacomo Casanova non sembra che fosse così bello era diciamo aveva un gran nasone un volto da caprone fondamentalmente eppure sapeva eppure sapeva sedurre Casanova ma anche il vate no il poeta non non era un granché non era un granché bello eppure si dice che avesse tante donne e questo dobbiamo tenerlo presente quindi non è salutiamo anche Gabriella non è la bellezza d'annunzio il poeta Vate non era un granché bello eppure si dice si dice che seducesse tantissime tantissime donne ringraziamo anche Sissi si dice che seducesse tantissime donne e che fosse diciamo un vero maestro nell'arte della seduzione quindi vediamo che già la bellezza no quindi se voi perché c'è un concetto fondamentale no se una donna diventa o un uomo anche per carità se una donna diventa rifattona per piacere un uomo è come se si squalificasse si autosqualificasse fondamentalmente quindi è molto importante invece utilizzare delle armi salutiamo anche Pink delle armi per attrarre delle armi per far innamorare e quindi tu devi se vuoi sedurre presentarti come un qualcosa di intrigante come un qualcosa di interessante devi saper stuzzicare quelle che sono le fantasie devi saper stuzzicare anche l'intelletto quindi un bel sorriso uno sguardo penetrante ma anche dei modi di fare che possono piacere un body language che attrae un tono di voce che attrae queste sono tutte situazioni che riescono a conquistare quindi la parola seduzione dal mio punto di vista fa più rima con legge di attrazione che con altre cose fa veramente più rima con legge di attrazione e nella seduzione se tu riesci a far sentire la tua mancanza a un uomo o una donna riesci per così dire a farla cadere nella tua rete di seduzione ovviamente un altro errore che fanno molte donne e credere che sia poi la sessualità che possano diciamo in camera da letto esistano dei trucchi magici per far innamorare beh da questo punto di vista la cosa fondamentale è sapersi sintonizzare diciamo con l'altra persona tra l'altro esiste anche un cioè una credenza falsa che sia l'uomo a sedurre la donna in realtà spesso non è così le donne hanno la capacità di attrarre fondamentalmente le donne devono essere quel bel giardino in grado diciamo di fare ringraziamo anche Betty Cottage le donne devono essere quel bel giardino in grado di fare entrare diciamo una persona una persona nella di fare sì che una persona si senta diciamo interessata si senta senta con piacere la voglia di entrare in comunicazione con questa persona quindi dobbiamo anche togliere una cosa la seduzione spesso viene associata a qualcosa di ingannevole e di malvagio ma non è così perché non esistono arti magiche non è che qualcuno in qualche modo ti fa l'incantesimo a me gli occhi e sarai sedotta d'altra parte la seduzione è proprio un gioco no e spesso se noi cadiamo diciamo sedotti della persona sbagliata salutiamo anche Roxy se noi cadiamo sedotti nella persona sbagliata della persona sbagliata è perché di fatto vogliamo essere sedotti dalla persona sbagliata perché altrimenti non cadremo il fascino delle persone diciamo risieda all'interno delle persone e lo esercitano all'esterno così come noi se abbiamo una forte interiorità non riusciremo coinvolti la seduzione ovviamente sicuramente diciamo va a stimolare emozioni che possono anche essere emozioni che possono anche essere emozioni profonde fondamentalmente come ad esempio stimolare il fascino dell'ignoto stimolare il fascino del proibito attrarre per tutto ciò che è proibito beh è per questo che molte donne ad esempio si innamorano di uomini sposati perché un uomo sposato rappresenta il fascino del proibito così come diciamo tu ti da bambina ti sei innamorata da bambina è quella cosa interessante questa qua perché molte io credo fermamente che le donne che hanno continuamente relazioni con uomini sposati cioè un conto è se una donna gli capita una volta diciamo di avere una relazione con un uomo sposato e va bene ci può stare ma quelle a cui capita costantemente io ne conosco donne che costantemente si innamorano di uomini impegnati o sposati costantemente praticamente è diciamo nel 99% nel 90% dei casi si innamorano con uomini sposati o con uomini che poi scoprono dopo poco tempo che sono sposati e perché non hanno risolto quello che il buon vecchio Freud chiamava Edipo perché se da bambina da bambina tu ti sei innamorata di un uomo sposato che era tuo padre che però era sposato con tua madre normalmente o comunque era impegnato con tua madre quindi è una forma di imprinting che se tu non riesci a superare ti porterai davanti anche ti porterai avanti anche da bambina ti porterai avanti anche da adulta e otterrai dei risultati poi c'è il discorso delle chat io ogni tanto dico con me faceva delle chat erotiche ci sono quelle donne che dicono con me faceva le chat erotiche ma io dico ma avete l'intelligenza di una rana bollita da mettervi a fare le chat erotiche secondo me avete l'intelligenza di una rana bollita perché io capisco che uno ti proponga di fare la chat erotica ma se tu accetti di fare e la vedi come un gioco ma può andarci ma se no ecco questa è una cosa interessante ci sono alcune donne che sperano di conquistare qualcuno facendo le chat erotiche per dire ma quella è una puttanata assurda è veramente il canto del cigno della seduzione neanche le sciampiste più sciampiste si mettono a fare le chat erotiche perché è una donna di qualità ecco pensate una donna di qualità ma secondo voi va a fare le chat erotiche o comunque un uomo può percepire una donna che fa le chat erotiche come una donna di qualità ma la percepisce come l'ultima delle disperate la percepisce come l'ultima delle sciampiste la percepisce come l'ultima la percepisce come l'ultima delle catramiste ma peggio delle catramiste la percepisce come l'ultima merda sulla faccia della terra cioè un uomo non potrà mai innamorarsi di una che si metta a fare le chat erotiche quelle che magari mandano pure foto salutiamo Andrea Giovani mandano pure foto e mandano e fanno queste cose ma come è possibile la percepisce come l'ultima delle come dire l'ultima delle sciampiste fondamentalmente e questo è un punto fondamentale no e quindi poi voi che causa del suo male pianga se stessa la seduzione è un processo di conquista attraverso la capacità di generare la mancanza attraverso la capacità salutiamo anche Manuel attraverso la capacità di generare di generare interesse fondamentalmente con la seduzione diciamo portiamo valore all'altra l'altra persona perché le facciamo provare determinate emozioni la seduzione è la capacità di far provare emozioni la seduzione è la capacità di far provare emozioni con la seduzione diciamo possiamo generare diciamo un buon approccio possiamo generare attrazione possiamo generare un rapporto di relazione quindi importante seguire delle fasi seguire le fasi nel modo giusto è molto importante avere un approccio indiretto una delle regole base della seduzione è per questo che una delle regole base della seduzione è quella di non far capire subito le nostre intenzioni la seconda regola è quella che dobbiamo avere un approccio indiretto non dobbiamo dimostrare apertamente il nostro interesse mentre invece poi ci sono qua molte donne che ad esempio accettano ad esempio delle situazioni delle situazioni che non hanno senso come quelli che spediscono video spediscono cose il problema non è di quello che spedisce perché uno che spedisce certe cose avrà le sue depravazioni e sarà un suo problema il problema è che sei tu che sei tu che li guardi questi video e li vai a vedere non li cancelli subito il problema è che poi ti vieni giudicata come una zoccola tu vieni giudicata come zoccola tu vieni giudicata come una che non vale niente e per questo giustamente verrai lasciata verrai lasciata certe cose non vanno neanche considerate comunque il discorso di fondo è che una persona che ti manda certe cose tu devi bloccarle istantaneamente devi bloccarla istantaneamente invece nel momento in cui tu accetti il gioco vieni subito etichettata vieni subito squalificata vieni subito cioè non vieni etichettata come una donna di qualità perché probabilmente non sei se tu non blocchi una situazione non sei una donna di qualità non sei una donna di qualità viene giudicata come una donna di basso valore come una donna che viene considerata sfregio diciamo quindi noi dobbiamo invece avere un approccio indiretto utilizzare un linguaggio del corpo che fa che ci valorizza quindi ci sono un sacco di cose che possiamo fare per far sentire la mancanza di una persona dobbiamo presentarci come uomini e donne di qualità diciamo la verità se non vieni percepita come un uomo come una donna di qualità non avrai nessuna possibilità di sedurre nessuno non verrai considerata come una donna che merita di essere amata o un uomo che merita di essere amato da un certo punto di vista è meglio essere timidi fondamentalmente che essere considerate delle troie delle puttane da competizione perché perlomeno se una donna viene considerata timida questo può essere diciamo può essere anche intrigante non molti uomini si agganciano su una donna che viene considerata ad esempio timida ma anche talvolta molte donne piuttosto che essere considerate catramiste sciampiste molto meglio essere considerate timide ma d'altra parte c'è da tenere presente perché un uomo cioè se un uomo ti manda la foto del suo coso ad esempio te la manda perché a prescindere non ti considera una donna di valore perché a prescindere non ti considera una donna di qualità perché a prescindere ti considera una sciacquetta ti considera una sguadrina altrimenti non lo farebbe se tu invece di chiudere istantaneamente tu per risalvarti devi chiudere istantaneamente bloccarlo da ogni punti di vista non ci sono altri salutiamo anche Zulemita non ci sono altre possibilità salutiamo anche Crezi Roby non possiamo non si può anche fare cose se volete cambiare rotta dovete abbonarvi al mio canale per seguire i miei seminari se volete cambiare rotta abbonatevi al canale fate un piccolo investimento un piccolo investimento che vi darà un grande risultato fate l'abbonamento al canale e seguite i miei seminari che sono presenti a lunedì e a giovedì così vi permetteranno di cambiare rotta vi permetteranno di apprendere intrinsecamente dei nuovi modelli comportamentali che vi permetteranno di cambiare definitivamente rotta e vi permetteranno di migliorare diciamo quelle che sono le vostre le vostre condizioni vi daranno dei grandi benefici da questo punto di vista è importante tenere presente che dobbiamo superare diciamo alcune 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 situazioni no? se vogliamo vivere bene dobbiamo imparare veramente quali sono le regole dell'attrazione per attrarre la timidezza quindi è qualcosa che può essere superata ma è qualcosa che può essere superata però ci deve dare dei risultati positivi ne dobbiamo farci aiutare diciamo da situazioni che sono importanti ad esempio la postura quando cammini la postura è qualcosa di importante i nostri gesti la nostra postura così come le nostre parole i nostri pensieri sono importanti per capire come ci poniamo nei confronti del mondo no? bisogna imparare ad esempio a mantenere una buona postura bisogna esercitarsi serve un training serve un la capacità diciamo di gestire quelle che sono anche le nostre emozioni dobbiamo sicuramente eliminare l'ansia perché noi certo un po' di timidezza va bene ma non deve mai trasformarsi in ansia questa timidezza non deve mai trasformarsi in ansia deve rimanere sempre qualcosa che deve essere deve mantenere sempre qualcosa che ci può dare un se Alohani in balera bravo bravo divertiti in che balera vai Alohani? io Alohano ci andavo da bambino nelle balere di Lohano oramai niente da fare in che balera sei Crezzi? le balere di Crezzi Alohano cosa c'era? il Saitta Alohano c'era il Saitta poi non mi ricordo più andavo anche a ballare il tango ogni tanto Alohano nelle balere ci andavo da bambino allora comunque andando avanti con il discorso dobbiamo renderci conto che dobbiamo renderci conto che queste situazioni sono sono situazioni che dobbiamo imparare a gestire fondamentalmente dobbiamo imparare il linguaggio della seduzione dobbiamo imparare il linguaggio dell'attrazione dobbiamo imparare il linguaggio dell'amore fondamentalmente che essenzialmente è saper gestire il desiderio e il possesso è imparare ad esempio che tipo di persona abbiamo davanti questo io lo spiego benissimo nei seminari delle persone che mi seguono io quando incontro una persona devo capire se abbiamo a che fare con una persona ad esempio a cui devo porre dei grossi vincoli come devo mettertelo il vincolo devo metterti un vincolo grosso o devo metterti un vincolo piccolo perché a seconda del vincolo che ti devo mettere e a seconda della tua personalità ti devo mettere ti devo mettere il vincolo diciamo ti devo mettere un vincolo grosso ti devo mettere un vincolo piccolo e questo è un punto fondamentale al Saitta c'è la serata di uno che conosco che va a suonare lì c'è al Saitta quella più giovane avrà 75 anni al Saitta caro Crezi quella più giovane ha 75 anni la più giovane ha 75 anni ci sono delle carampanone io andavo al tango andavo di sopra al piano di sopra al tango ma ti parlo 2021 prima del covid c'erano le serate tango al Saitta dove c'era al so al sopra c'era il tango al piano di sopra e al piano di sotto c'era c'erano le le carampane quella più giovane aveva 75 anni quelle più giovane al Saitta ha 75 anni comunque tornando al discorso tornando al discorso di prima dobbiamo tenere presente che quindi devo capire che ho davanti ho davanti una persona diciamo ho davanti una persona che a cui devo mettere dei grossi vincoli o devo mettere dei vincoli piccoli ho davanti una persona emotiva ho davanti una persona iperlogica ho davanti una persona che ho davanti una persona che si alimenta diciamo del desiderio si alimenta del possesso ho davanti una persona il Saitta è un locale un locale che c'è a Loano vicino a Savona 30 km da Savona è una balera ma facevano anche tango io andavo 3-4 anni fa nel 2019 2020 prima del covid a ballare il tango però siccome c'era il piano di sopra il tango al piano di sotto la balera dove mettevano il liscio c'erano quella più giovane aveva 75 anni anche a tango non è che fossero tanto più giovani però intorno ai 70 stasera no vabbè ok stasera no meno male divertiti buon divertimento allora poi comunque dobbiamo tenere presente questi questi fatti questi fatti fondamentali no quindi dobbiamo imparare diciamo il linguaggio non verbale quindi dobbiamo imparare a riconoscere dal linguaggio non verbale dobbiamo riconoscere il linguaggio non verbale se tu riesci a come possiamo dire dal linguaggio non verbale bisogna beh il saitta è bello però d'estate d'estate è bello saitta c'è una dobbiamo riconoscere dal linguaggio non verbale se ad esempio che tipo di persona è quindi ho già insegnato molte cose a chi mi segue anche molto importante capire qual è lo stimolatore inconscio di questa persona io come devo comportarmi nei confronti di questa persona per agganciare la sua sfera emotiva devo essere più penalizzante che tipo di gestualità devo avere che tipo di gesti devo fare per essere più attraente nei confronti di questa persona devo essere più duro più penetrante più rigido devo essere più indicativo che tipo di comportamento devo avere devo essere più morbido più accogliente ci sono un sacco di cose che messe in atto generano quella che possiamo definire attrazione generano quella che possiamo definire diciamo che possiamo dire genera ma per capire se è iperlogico emotivo non è che lo capite così perché voi poi ecco il problema è che le persone che non sanno un cazzo o sanno poco prendono delle cantonate prendono delle sì il mio iperlogico il mio emotivo quando non sapete neanche ci sono persone che dicono il mio iperlogico il mio emotivo quando non sanno neanche cosa significa quando non sanno neanche quali sono le strategie per capirlo vanno a muzzo e le persone che vanno a muzzo come dire se lo pigliano in quel posto perché una sconoscenza scarsa di qualcosa ti porta a fare degli errori ti porta a fare degli errori strategici ti porta a fare degli errori grossolani se voi siete ignoranti e pensate di sapere tutto siete ignoranti fondamentalmente quindi abbonatevi al canale e imparerete veramente come si può andare a capire anche in modo analogico molto rapidamente se una persona che tipo di caratteristiche ha quindi dobbiamo capire se è per logico emotivo cioè scusate sì se è per logico emotivo se se aggancia sul desiderio sul possesso se viene stimolato da una comunicazione più dura rigida paterna una comunicazione più morbida materna una comunicazione più stringente una comunicazione più stringente egocentrica dobbiamo imparare se una persona è un regista se è una persona oppure è un adulto significativo che se è una persona egocentrica o non è egocentrica ci sono un sacco di informazioni come un puzzle quindi conoscere questo ci permette poi di imparare a stimolare la giusta ma poi ci sono anche i metaprogrammi ad esempio capire il tipo di metaprogramma che questa persona sta vivendo quindi ma questo ad esempio per dire la PNL ci dà tante informazioni quando capisci ad esempio che una persona fa un certo lavoro per un certo motivo ha fatto una scelta piuttosto che un'altra noi possiamo ottenere diciamo una comprensione che si chiama di dinamiche a spirale no? le dinamiche a spirale sono una metodica eccezionale per capire il comportamento umano se tu riesci a come dire a comprendere diciamo attraverso tutta una serie di domande le dinamiche a spirale che questa persona mette in atto tu riesci a comprendere diciamo che visione del mondo ha quindi una volta che hai capito salutiamo anche Dea una volta che hai capito che quali sono diciamo una volta che hai capito quali sono i meccanismi della dinamica a spirale tu riesci a comprendere come far innamorare quella persona riesci a comprendere come coinvolgere anche in modo pesante in modo forte quella persona il linguaggio del corpo comunque è sicuramente la forma più importante di comunicazione non verbale visto che l'espressione del viso i gesti la postura sono di solito l'espressione immediata diciamo dei nostri sentimenti quindi il motivo è che la maggior parte di questi segnali non viene viene inviata inconsciamente quindi c'è quindi dobbiamo riconoscere anche le emozioni attraverso tutta una serie di microespressioni possiamo riconoscere in tempo reale che emozioni sta vivendo una persona sono emozioni di gioia di paura di rabbia di tristezza e quindi mettere in atto la giusta strategia sulla base del tipo di emozione che sta vivendo la persona in quel momento lì tenendo presente che non dobbiamo chiudere il canale emotivo ma dobbiamo amplificarlo nel senso che se una persona sta vivendo un fenomeno di paura ad esempio la paura non dobbiamo chiudergliela dobbiamo nella seduzione imparare ad amplificarla se una persona è timida sarà sedotta da chi la fa sentire più timida una persona timida sarà attratta da chi la fa sentire più timida il corpo parla e lo fa in modo più efficace delle parole però bisogna imparare a interpretarlo ma non basta interpretare il linguaggio del corpo dobbiamo diciamo poi mettere in atto i giusti comportamenti che sanno creare un vuoto e che sanno generare attrazione che sanno generare attrazione ci sono degli sguardi dei movimenti delle mani ad esempio dei movimenti delle mani salutiamo la nostra Roxy dei movimenti delle mani possono darci molte informazioni delle piccoli movimenti delle labbra oppure dei movimenti degli occhi sono tutti pezzi di un puzzle che noi possiamo leggere scoprire poi agire agire di conseguenza quindi mettere in atto delle cose ma ad esempio anche il semplice sguardo un uomo che ti guarda a lungo cosa significa? attratto e possessivo ebbè c'è un tempo preciso nello sguardo che se quel tempo lì è inferiore rispetto diciamo è come se fosse un range nella plettora di comunicazioni sensoriali come se ci fosse un range per cui se tu guardi una persona al di sotto di un certo tempo è perché di fatto non sei ancora coinvolto non è ancora potenziale se guardi una persona in modo costante per un tempo superiore praticamente significa che invece sei una persona che è fondamentalmente una persona eccessivamente manipolativa perché le persone manipolative per esempio le persone narcisiste talvolta ma manipolative in generale ti guardano negli occhi per un tempo lungo per un tempo lungo perché ti vogliono dominare poi nel linguaggio del corpo puoi anche stimolare una persona su un piano erotico ma salutiamo Isaura ma stimolare una persona su un piano erotico non vuol dire accettare le chat erotiche non vuol dire accettare di mandare video o di ricevere video di un certo tipo perché chi riceve quei video di un certo tipo o chi è ancora peggio chi manda quei video di un certo tipo viene subito immediatamente squalificata viene subito immediatamente giudicata un troione da competizione viene subito è come una che va vestita leopardata una che va vestita leopardata e viene subito etichettata un troione da competizione fondamentalmente a meno che non sia la regina Elisabetta perché la regina Elisabetta occupava un ruolo tale per cui la regina Elisabetta può andare in giro vestita leopardata una donna di classe può ma se non sei la regina Elisabetta se non sei Kate Middleton e vai in giro vestita leopardata verrai giudicata troiona da competizione poi se ti fa piacere escusazio non petita accusazio manifesta fondamentalmente ognuno fa esattamente quello che vuole salutiamo Chris Chris la tua fidanzata non so chi è la tua fidanzata comunque le troione da competizione vengono subito automaticamente squalificate e questo dobbiamo tenere presente è anche importante gestire i palmi delle mani fondamentalmente i palmi delle mani sono un segno questa persona come muove i palmi quali sono i movimenti dei palmi che sta facendo quali sono i movimenti dei palmi che può fare questi movimenti implicano tutta una serie delle cose ci sono tante cose che devi capire per poter poi diciamo mettere in atto ad esempio un uomo potrebbe aggiustarsi la cravatta in un certo modo dal modo in cui si aggiusta la cravatta salutiamo Pamela anche dal modo in cui si aggiusta la cravatta tu potresti capire tantissime cose se ha la cravatta ma dal modo in cui si tocca l'orologio dal modo in cui si tocca il polso ad esempio potrebbe muovere il polso in questo modo muovere il polso in questo modo un significato preciso che se tu però non conosci dal modo in cui si tocca al mento magari in questo modo dal modo in cui si infila l'occhiale se ha gli occhiali dal modo in cui spinge ad esempio dal modo in cui spinge l'occhiale in questo modo per dire è un altro segnale no? e beh tu Betty Kotic sai i segnali perché tu stai seguendo i seminari quindi esorto tutti a seguirmi i seminari sul canale Massimo Terramasco per imparare ma quindi ci sono poi devi fare attenzione anche al timbro della voce alla paralinguistica a quei tratti sopra e sotto segamentali della voce che ci dicono delle cose no? il segnale paraverbale io potrei usare un tono di voce parlo anche in questo modo un tono di voce più duro un tono di voce duro oppure potrei usare un tono di voce morbido potrei usare un tono di voce in questo modo più morbido più rilassato e il tono di voce che utilizzo ovviamente mi dà mi dà dei segnali il tono di voce che utilizzo mi dà dei segnali particolari fondamentalmente questo è un qualcosa di molto importante quindi la parola che uso è fondamentale questo tipo di segnali diciamo poi come ho detto che poi lo spiegherò anche al seminario ah ecco anche la tipologia dei colori ecco che dimenticavo nel seminario ricordatemi che seguo il mio seminario tra tutte le cose che vi ho detto ricordatevi anche la tipologia dei colori la tipologia dei colori perché anche la tipologia dei colori è fondamentale per capire ad esempio alcuni tipi di conflittualità che vive la persona quindi come vedete le cose sono tante le donne possono dare dei segnali diciamo perché la seduzione se vogliamo è un'alchimia non è una qualcosa di grossolano la seduzione è un'alchimia la seduzione è un qualcosa di importante un qualcosa di fondamentale beh i tre colori fondamentali sono il colore rosso-rosa cioè quindi tendente al rosso vi do alcune indicazioni senza svelare tutto sono i colori rosso-rosa sono i colori blu-nero-verde diciamo e sono i colori marrone-beige marrone-beige e pastello marrone-beige e tutte le tonalità del marrone-beige e del pastello rosso-rosa e blu-nero queste sono un po' suddivisi in tre macro tipologie che noi perché ovviamente c'è il colore fulcro e poi ci sono i colori collaterali e noi dal colore fulcro sì magenta-blu 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 e nero fondamentalmente rappresentano tutta una serie di tipologia poi abbiamo il rosso-rosa e i colori diciamo arancio un po' sfocato tendenti e poi ci sono tutte queste sere e poi ci sono delle sfumature ovviamente perché poi qualcosa quindi comunque ci sono e quindi imparare la tipologia dei colori i colori che piacciono e i colori che non piacciono ovviamente il colore che piace è il colore che una persona indossa e ci dà delle indicazioni importanti il colore che non piace rappresenta un'altra cosa quindi questo è un qualcosa di fondamentale e poi comunque quindi imparare queste cose è molto importante bene detto questo passo ai saluti perché volevo dire altre cose ma le dirò in una prossima live magari domani sera e vi ricordo che domani sera avremo la nostra avremo la nostra Venus la nostra Venus che parlerà di santo espedito quindi mi raccomando devo ancora caricare il video perché è diventato un po' più lento Skype devo ancora caricarlo ma lo caricherò presto spero che non